Edizione speciale! Edizione speciale! Edizione speciale di Soy Luna DIY Do-It-Yourself DIY Speciale Nail Art Quando scrivo ai miei amici uso tantissime faccine Come questa Non trovate che siano carinissime? Sentite, perché non farle sopra le unghie? Andiamo a vedere come! Serviranno Base trasparente Smalti colorati tra cui il giallo Solvente per unghie Stuzzicadenti Forcine per capelli Bastoncini di cotone Adesivi circolari Fase 1 Passa la base trasparente su entrambe le mani e fai asciugare Fase 2 Passa lo smalto giallo su entrambe le mani e fai asciugare bene Fase 3 Applica gli adesivi circolari alle estremità superiori delle unghie, in questo modo Fase 4 Passa gli smalti colorati sulla parte scoperta delle unghie In modo da creare dei caschetti colorati Lascia asciugare e stacca gli adesivi Fase 5 Disegna gli occhi delle faccine con una forcina per capelli Con lo stuzzicadenti puoi variare le espressioni degli occhi e disegnare la bocca Fase 6 Definisci poi i dettagli, ad esempio l'interno della bocca, gli occhi a cuoricini o una linguaccia Fai asciugare bene Fase 7 Infine, passa la base trasparente per rendere lucide le faccine E ripulisci le eventuali sbavature con un bastoncino di cotone imbevuto di solvente Ripeti poi dalla fase 3 in poi sull'altra mano Un'idea super simpatica per il nostro Soy Luna DIY Do It Yourself speciale nail art